Ci siamo amici, Wrestling Italia on the road, siamo on road to Pescara, da poco abbiamo superato la Toscana, stiamo andando in giù, la macchina procede, il Mac guida, Eugenio che l'ha fatto da destra, non urlare che c'è Dani che sta dormendo, è dietro che dorme, che dorme, stacco, cagliamogli il cazzo, ha un occhio aperto, aspetta, aspetta, Dani, 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 c'è Wrestling Italia qua, ce lo fa un saluto, mamma sono 5 minuti, mamma, vai, vai, torna a dormire, vai, vai tranquillo, è un po' stacco perché ieri ha dato il meglio di sé, quindi c'è pochissimo sonno addosso, superati 40, giustamente, giustamente, ricordate che prima di entrare in Pescara devo fare un controllino alla prostata, e col controllino alla prostata vi diamo un aggiornamento al prossimo video, esatto, allora boh, ci vediamo al controllino direi, ciao ragazzi!